Allora ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti voi da Manuel. Questo lo sapete, lo vedete, è il bar del calcio. Stranito no, certe cose me le faccio sciolo addosso, però ogni tanto bisogna dare una toccatina a qualche cretinetto di turno. Partiamo con la nostra intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo, qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale, in uno di essi, trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio, tutte, 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 e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio, e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Allora ragazzi, chiariamo subito un concetto. Non lo dico alla mia community, i fedelissimi non mi conoscono, se fidano di me questo video non è riservato ai fedelissimi. Il video che faccio adesso è riferito a qualche tizio che ogni tanto si diverte a commentare sui miei video. E mando in sovrimpressione, lui lo prendo come campione, quindi tutti i fenomeni, gli intelligentoni che stanno dentro sto canale, pieni di sé, che intervengono solamente per criticare, tipo lo scemo di turno, se ci sei sei tu lo scemo di turno, perché adesso te dico chi sei, quello che magari dice ragazzi, saltate direttamente al minuto sei, come per la serie, fino al sesto minuto parlate di niente. Allora, caro fenomeno di turno, mi rivolgo a te, come mi rivolgo anche a chi purtroppo a me è come te. Eh, te lo dico sincero, ma che cazzo c'è stai a fare sto canale? Eh? Chi cazzo? C'è qualcuno che te punta una pistola in testa per stare a sto canale? Vattene via! Chi come te se ne vada via! Non ho bisogno di gente come voi, non abbiamo bisogno di gentaglia come voi. Il bello della democrazia è che siete libri di andarvene dove cazzo vi pare, e l'appello disperato che vi faccio è di andarvene a fanculo altrove. Andate in altri canali. Perché state qui sempre in agguata a vedere i video? Mi regalate pure una visualizzazione, pensando siete stupidi duorte con la sh. A Roma quando dici stupido con la sh lo dici ancora più dispregiativa la cosa, no? Siete stupidi siete? Mi regalate pure la visualizzazione, ma siete cretini? Ma andatevene sui canali che vi piacciono. Sino mi fate pensare che voi venite da altri canali, vi mascherate sotto nickname particolari, e venite qua a fare fenomeni per screditare sto canale. Non avete capito che non me ne frega niente? Vi identificate da soli per quelli che siete. Ma è possibile che non ci arrivate da soli? Quindi l'appello disperato che faccio ai fenomeni che commentano, lo rimetto un'altra volta a sua impressione, come questo qua, cambiate canale, andate. Nello specifico, in questo video, farò un'eccezione, ok? È un'eccezione che faccio volutamente. Ripeto, questo è un video che non è rivolto alla community che si fida ciecamente di me, infatti i commenti lo dicono tanto, però ogni tanto forse toccadana rinfrescata a questi fenomeni di turno che entrano nel canale solo per criticare. E tra poco vi certificherò, poi se non ci credete nemmeno con quello che vi sto per mostrare, ragazzi, sono cazzi vostri, lo dico sinceramente, tra poco vi certificherò la mia buona fede. Vi ho dato dei riferimenti temporali e vi ho detto, nel video di Yazici, vi ho detto che appena finita la partita della Lazio, sabato sera, mi è arrivato un messaggio a me da un giornalista che mi ha chiesto la riservatezza e quindi la tengo, in merito alla notizia della trattativa esistente per Yazici. In questo messaggio, ci ho fatto il video, questo giornalista mi dice che è lui che tratta calcio turco, è il giornalista per eccellenza più esperto di calcio turco quando stiamo in Italia, quando si parla di giornalismo italiano. Per me, per distacco, è lui l'unica certezza sul mercato turco, sul calcio turco. E lui ha le sue fonti, lui ci sta in Turchia, ci lavora in Turchia, ha ovviamente la sua rete di procurazione, curatori, di contatti e quant'altro. E se lui mi dice che ha una fonte certissima, certificatissima, secondo la quale la Lazio sta trattando Yazici, per me quella è una notizia della quale parlare. La notizia io l'ho ricevuta sabato e l'immagine che metto adesso in sovraimpressione va a settire tutti questi scemotti che criticano. Come potete vedere, ovviamente ho dovuto oscurare il cognome di questo giornalista, ho scritto alcune cose tra me e lui riservate nella chat che non posso notare, che non posso evidenziare per paragasi, però mi sembra abbastanza chiaro che si parla di quello che vi sto dicendo. E se ero un altro, io sabato, nonostante la mia stanchezza, alla fine del video, ne facevo subito un altro, no? In cui sparavo sta notizia. Siccome a me dello scuppone non me ne frega una mazza, anzi, per me una trattativa della Lazio più rimane riservata e meglio è, più ci sono possibilità che vada in porto, non me ne è fregato niente. Ne ho parlato due giorni dopo, quando, in maniera colpevole gli altri, voluta da me, quando dico gli altri parlo di organi di informazione, testate giornalisti che si visitarelli, ne hanno parlato con 24, 32 ore di ritardo. E poi c'è il fenomeno di turno, che non crede a quello che dico nel video precedente degli azici, e dice, ma che fai, ne stanno a parlare tutti, che te che ti deve, vado a riassumere, magari i commenti avete letto anche voi, che te che ti sta a parlare, è facile parlare così dopo che ne stanno parlando gli altri. Beh, mi permetto di dire che ci sono arrivato prima, perché se vi fidate di questo screenshot che vi ho mandato in sua impressione poco fa, di questo messaggio, per il quale, ripeto, sono stato contattato io, sono stato io contattato, nemmeno sono stato io a rompere le palle ai procuratori o ai giornalisti. Vi dico la verità, perché? Perché nella giornata del 30 ho rotto talmente tanti coglioni, tanto stavo sotto pressione pure io per sperare che la Lazio prendesse qualcuno, che a un certo punto qualcuno di loro mi ha mandato a quel paese, giustamente mi ha detto, basta, ma noi stiamo lavorando, per favore lasciaci lavorare in santa pace, quando abbiamo notizie le facciamo sapere. Ecco, tanto per farvi sapere, per farvi capire. Quindi mi sono imposto, è arrivato un punto in cui mi sono detto, porco giusto, ho perso il controllo, esagerato, non è da me, ve lo giuro, non gli rompo più le palle. Invece, nell'immediato post Lazio-Milan, mi è arrivato il messaggio a me da un giornalista, che mi dava la notizia in anteprima che la Lazio stava trattando gli asigi. Adesso io questo video lo facevo, forse in qualche modo l'ho data vinta a qualche cretino, a qualche stupidotto che viene in questo canale a commentare. A parte ribadire il mio appello a andarvene via. Anche perché uno, due, tre, quando i vostri commenti sono inutili, io comincio a pensare seriamente di bloccarvi, di rendervi invisibili al canale. Potete scrivere tutto quello che vi pare, ma i vostri commenti non li vedrete mai sul canale. Mi costringete a fare una cosa che va contro il mio modo di fare. Io sono assolutamente democratico e fare cose antidemocratiche, anche le più semplici come queste, un pochino mi mette a disagio. Però non mi costringete. L'appello che vi faccio, non venite qua a fare fenomeno. Io qui di base esprimo un mio pensiero, un'opinione. Io non sto a dare notizie. Se siete convinti che io vi do notizie, cambiate canale. Andatevi da un'altra parte. Andatevi da chi vi facchete che vi redà le notizie. Capite qual è il discorso? Finché non entrate nell'ottica, non vi allineate al mio pensiero, ossia quello di entrare qui e sentire. Vediamo che dice sto scemo. Magari facciamo una condivisione di idee. Manuel, non so d'accordo con te perché io la vedo così. Manuel, c'hai ragione, rafforziamo sto concetto. Ecco, questo è il canale che voglio. Tutte le persone come voi per me sono non desiderate. Le schifo. Lo dico sinceramente. Ok? Quindi, per chi si fida di me, mi auguro che questo screenshot, che io non devo neanche certificarle le mie fonti. Io ho le mie fonti, mi fido l'altro, poi ci possono credere o meno. A me non me ne frega niente. Mi interessa. Sta la vostra buona fede fidarvi o no di me. Stop. Punto. Basta. A sta gente. Natevi da un'altra parte. Natevi a far prendere per culo da qualche altra parte. No. Qui. Ciao a tutti ragazzi. Forza Lazio. Ciao.